Ciao! Oggi come leggete dal titolo finalmente o per vostra sfortuna torno con un Get Ready With Me infatti mi vedete completamente struccata perché sono qui a provare alcuni prodotti insieme a voi per la prima volta infatti sarà un video prime impressioni. Direi di iniziare subito con il primer anche se non è una novità sapete che lo voglio terminare, è nel progetto smaltimento prodotti che vi lascio sempre nelle schede qui in alto è di P2 ed è il Perfect Face Anti Red Base, quindi un primer verde per i rossori vado semplicemente ad applicarlo in questa zona principalmente, magari anche un po' qui perché appunto devo terminarlo. Tra l'altro parlando del progetto smaltimento prodotti a breve, facciamo fine giugno, voglio farvi l'aggiornamento dato che appunto me l'avete chiesto così da fare almeno due aggiornamenti all'anno perché come sapete io non riesco a terminare i prodotti o comunque a consumarli molto in fretta perché non mi trucco tutti tutti i giorni e quindi fare l'aggiornamento tutti i mesi no, cioè io non ce la faccio proprio anche perché per voi dico vedere secondo me vi annoierebbe e basta proprio perché non ho novità da dirvi però ecco così magari ogni sei mesi ci può stare perché alcune cose le ho terminate altre sono a buon punto e appunto voglio farvi un aggiornamento utilizzo come fondotinta questo qua che non uso da diverso tempo perché lo voglio provare che è la Corp Arfait di L'Oreal, la colorazione è l'1.r.1.c Ivory Rose ma come sempre troverete tutto scritto nell'info box, tutti i prodotti che sto utilizzando principalmente perché voglio farvelo vedere all'opera insieme a quest'altro prodotto di cui vi ho parlato a inizio anno, se non ricordo male, in un video haul che è di Elegore, il Pro Color Foundation Mixing Pigment nella colorazione Yellow, praticamente un prodotto che va mischiato insieme al fondotinta per cambiarne il sottotono, per renderlo più giallo, più caldo e lo stendo con il pennello di Nabla perché diciamo che questo fondotinta di L'Oreal è molto più liquido rispetto a quello di Nabla di cui vi ho parlato in qualche video fa e voglio vedere come si comporta con questo tipo di texture anche perché me l'avete chiesto e vediamo se funziona oppure no allora, devo dire che decisamente meglio rispetto alla texture di quello Nabla quindi secondo me questo tipo di pennello non va bene per quei fondotinta che si autosettano molto molto velocemente però comunque un minimo di striature c'erano quindi sono andata dopo con una spugnetta per sistemare lo proverò con un fondotinta ancora più acquoso ancora più liquido e poi vi farò sapere però ecco, rispetto a quello di Nabla mi è piaciuto di più come stesura sicuramente ora, arriviamo al pezzo forte di questo video ossia questi qui che io ho acquistato sul sito di Beauty Bay appena sono usciti ci ha messo un bel po' ad arrivarmi anche perché ci sono state in mezzo le feste quindi Pasqua, Pasquetta, il primo maggio, eccetera quindi ci ha messo davvero davvero tanto non ci speravo più ma alla fine sono arrivati sto parlando del nuovo correttore e della nuova cipria di Jeffree Star Cosmetics in particolare della cipria io ho preso la colorazione Translucent mentre del correttore il C7 spero di aver azzeccato con il correttore perché secondo me è un filino troppo scuro mi sono basata più che altro sulla descrizione che dà Beauty Bay dei vari colori e l'ho pensato come correttore più che altro per correggere il bluastro violaceo delle mie occhiaie quindi leggermente arancione come sottotono il packaging è 10 su 10 c'è chi l'ha criticato perché era un po' troppo da bambini tra virgolette ma secondo me è tipo un gioiello è tipo da collezione io non lo so io lo amo mi sembra di essere Sailor Moon packaging 10 su 10 quindi questo è il correttore mentre la cipria dovrebbe essere trasparente diciamo che ho voluto andare su questa colorazione perché dalle altre non capivo perché dalla descrizione era uno poi vedendo Varys Watch era un altro era intenzionata a prendere Fair però mi sembrava un po' troppo scura comunque un po' troppo gialla e non lo so alla fine ho preso lei che dovrebbe illuminare da quello che dice Jeffree Star pur rimanendo trasparente una volta applicata sul viso anche qui packaging fantastico anche se preferisco quello del correttore del correttore ha un applicatore fatto in questo modo lo avrete visto in millimila video e dalla descrizione che dà Jeffree Star non dovrebbe andare d'accordo moltissimo con il mio contorno occhi però in teoria dice che non si autosetta e resta abbastanza morbido e ho sperato che da queste piccole parole potesse andare bene anche sul mio contorno occhi che come sapete è un contorno occhi abbastanza secco e segnato ci sono delle pieghettine quindi incrociamo le dita vediamo innanzitutto il colore ok no forse è chiaro ve lo farò vedere da vicino penso che riuscite comunque apprezzarlo anche da qua però me lo immaginavo più scuro perché questa colorazione le dà uno per sottotono neutro con carnagione da chiara a media quindi io sono chiara sono fair e e boh vediamo se ossida magari ok sì decisamente ossida questo è appena applicato e questo è asciugato ne applico sempre poco alla volta in caso aggiungo dopo a me sembra un botto chiaro però eh allora questa è la differenza decisamente non c'entra niente rispetto a quello che avevo immaginato mi va bene ma come correttore illuminante non è decisamente un correttore che può essere utilizzato da solo per contrastare il bluastro delle mie occhiaie perché non ha niente dell'aranciato rispetto alla descrizione che avevo avevo in mente quindi sì devo per forza utilizzarlo insieme a un altro correttore più più aranciato so che Jeffree Star ha fatto proprio la colorazione peach per contrastare le occhiaie però non volevo prenderne due anche perché vi ripeto solitamente questo tipo di texture non va molto d'accordo con il mio contorno occhi quindi volevo prima prendere questo e vedere com'era quindi boh vi vediamo vi terrò aggiornati perché per ora non non vi posso dire niente si sfuma bene non è andato nelle pieghe mentre parlavo solitamente vanno subito questi correttori però vediamo ora passiamo alla cipria ne metto un po' sul tappo direi che così basta e avanza la cipria profuma però io non sento un odore perché ho visto poche recensioni di questi prodotti e da quello che mi è sembrato di capire questa cipria dava una profumazione proprio forte forte però sinceramente si sento un po' una profumazione ma non è eccessiva almeno non dà fastidio mentre il correttore non aveva profumazione comunque tolgo le eventuali pieghette che si sono formate perché un pochettino ci sono ma è una cosa che mi capita con tutti i correttori e come anche dice Jeffrey è vero che non è un correttore che si che si fissa perché risulta leggermente sticky e ho esagerato con la cipria fa flashback non capisco perché dallo schermino mi sembra di sì però dal vivo non lo so spolvero via l'eccesso allora non riesco a capire se lo fa oppure no perché con la fotocamera interna utilizzando il flash non sembra faccia flashback però con la fotocamera esterna utilizzando il flash a me sembra un pochettino che lo faccia non lo so non lo so non so devo devo testarla ancora ancora bene per ora vi posso dire che l'effetto è bellissimo cioè mi sento liscissima questa zona cioè è seta e non secca perché ad esempio quella di Fenty Beauty o anche quella di Navla sempre un polvere libera se faccio baking come ho fatto adesso con la spugnetta sotto il contorno occhi sento proprio la pelle che fa così come se appunto sono troppo secche per il mio contorno occhi quelle questa invece anche se ho esagerato non mi dà quella sensazione e mi sento liscissima poi continuiamo e passiamo al contouring ho preso questo set di Fenty Beauty che contiene un match stick shimmering skin stick comunque uno stick per il contouring però secondo me è tipo metallizzato la colorazione è cinnamon e non mi convince più di tanto l'ho preso principalmente per l'altro prodotto che è il sun stalker instant warm bronzer l'avrò sicuramente pronunciato male come sempre infobots nella colorazione shady beads che è il nuovo bronzer uscito di recente diciamo che ero più tentata da in the sun che dovrebbe essere la prima colorazione uscita perché non mi sembrava così tanto calda cioè non era completamente fredda ma non era neanche completamente calda un buon mix che secondo me per la mia carnagione o comunque per i miei gusti sarebbe stato meglio però appunto in mini taglia non c'era c'era solo questa colorazione che è la seconda uscita che comunque dovrebbe andare bene per la mia carnagione perché ho visto che la utilizza tipo c'era il pandemonium carlotta e più o meno siamo lì come colori e non volevo spendere soldi per la mini taglia per il formato grande perché comunque sapete che io preferisco il contouring freddo non amo particolarmente il bronzer però quando ho visto questi cioè come fai è vero che si sporca in un nanosecondo perché è tutto specchiato però è identico a quello in formato grande ed è bellissimo cioè è la mini taglia più carina che possiedo probabilmente anche perché ha fb basta sapete che io impazzisco per queste cose dovrebbero farne di tutti i prodotti c'è un reparto mini taglia di tutti i prodotti che vende sephora però appunto in formato mini sarebbe il sogno tipo comunque questo è il colore e da quello che ho visto in negozio questi prodotti non sono molto pigmentati da subito ma sono ben stratificabili ben modulabili potete giocare tranquillamente a vostro a vostro piacimento vedete che queste sono due passate e non risulta troppo quindi mi sono convinta anche anche per questo motivo mentre il stick che appunto vi ripeto sì è decisamente metallizzato e io come lo uso questo coso eh no è più chiaro rispetto a come si vede nello stick però è comunque bronzo cioè bronzo puro metallizzato no 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 sul viso non è il mio genere assolutamente no preferisco cose opache come sapete però come ombretto da tutti i giorni per magari uno uno di quei look che tipo ha fatto ultimamente mister da nel make up con i marroncini solo nella piega e questi bronzati su tutto l'occhio per il cocello l'ha fatto tipo e è da sperimentare però per il viso per quanto mi riguarda non l'utilizzerei mai comunque andiamo a fare un po' di bronzing sul viso non spolvera neanche più di tanto come prodotto allora io ne ho messo poco però devo dire che mi piace davvero davvero tanto come effetto perché non è arancione come lo si vede sulla mano dalla mano mi sembrava tanto tanto caldo in realtà steso con il pennello sul viso non mi dispiace come effetto io lo metto un po' anche qua sul naso per dare l'effetto finto abbronzata e non mi dispiace ora come blush utilizzo questo qua di Kiko che faceva parte di un'edizione limitata faccio che utilizzo questo questa parte qui poi spruzzo un po' di setting spray magari mirando la faccia e lì che non mi trovo come illuminante utilizzo questa meraviglia di Lunar Beauty il brand di Manny Moua sinceramente non l'ho preso perché è il suo brand non mi sta molto simpatico non lo seguo particolarmente Manny Moua ma l'ho preso per il colore e per il packaging che è qualcosa di stupendo sempre da Beauty Bay quando ho fatto l'ordine di Jeffree Star ed è praticamente una scatola del tesoro perché ci metti 30 anni a rimuoverlo e poi dentro c'è questa cosa cioè io quando l'ho visto sono impazzita sono completamente impazzita in particolare io ho preso la colorazione Mars che spero non sia scuro per la mia carnagione è plastica perché è plastica però non lo so mi sono lasciata tentare qua c'è lo specchio e c'è la plastichina che protegge il prodotto ed è un pescato un'albicocca che appunto spero tanto non sia troppo scuro per me però ho questa sensazione bruttissima che è questo qua lo utilizzo con il pennello di Nabla per l'illuminante io continuo a osservarlo perché è troppo troppo bello l'unica cosa è che non so se notate credo proprio di sì purtroppo per la mia carnagione è un tantino scuro se esagero quindi devo mettere di meno rispetto a quello che ho messo oggi perché altrimenti tende a fare macchia però non avevo voglia di prendere la colorazione più chiara ancora doratini ne sono piena praticamente questo era un colore che ancora non avevo e non mi pento assolutamente di aver osato devo sicuramente dosarlo quello quello sì anche perché comunque non ne basta non ne serve tantissimo per ottenere questo effetto ora metto un pochettino di questo qua di Fenty nella piega quindi lo utilizzo un po' come se fosse un ombretto perché vi ripeto non devo fare niente sugli occhi giusto per dare un po' di definizione perché altrimenti il mio occhio è un po' perso un po' da pesce ovviamente non poteva non esserci un fail il microfono ha smesso di registrare l'audio quindi io parlavo senza l'audio quindi ricapitolando ho fatto le sopracciglia non ve lo ho mostrato perché tanto ho utilizzato il brow pot di mulac nella colorazione perfect brown me l'avete visto più volte utilizzare ultimamente no lo sto riscoprendo grazie al progetto smaltimento prodotti e mi sta sempre piacendo cioè è un bellissimo prodotto per le sopracciglia molto più definite rispetto al mio solito sapete che io preferisco qualcosa di più naturale però per i video specialmente o per le foto è fantastico questo effetto non c'è niente da dire in realtà come nuovo prodotto per le sopracciglia avevo da mostrarvi la matita e il brow gel di Anastasia ho preso il kit sul loro sito ufficiale UK solo che appunto vorrei prima terminare qualcosa per le sopracciglia perché ho tanti prodotti aperti io non le faccio praticamente quasi mai se non per i video perché comunque di mio per la vita di tutti i giorni se così vogliamo dire già mi piacciono le ho abbastanza belle e quindi vorrei prima terminare quello e poi magari ne parleremo prossimamente dei prodotti di Anastasia come mascara vi ho registrato solo l'applicazione ho utilizzato questo qua di Mulac quello nuovo il Black Mamba tra l'altro arriverà presto un video dedicato ai nuovi prodotti di Mulac solo che appunto voglio testare per bene questo mascara prima di parlarmene oggi era la prima volta che lo utilizzavo è questo qui lo scovolino in silicone questo ok io spero che dal video riuscirete a percepirlo però sicuramente è un mascara molto allungante io è vero che ho già delle ciglia abbastanza lunghe di mio però questo mascara me le ha ancora di più allungate se non sto attenta toccano la palpebra fissa quindi è molto allungante e ho notato anche un effetto volume le mie ciglia sono sottili e sono poche con questo mascara essendo molto molto nero ho notato un effetto più di volume appunto all'attaccatura delle ciglia e devo dire che mi piace non è incurvante e come sapete le mie ciglia sono molto molto dritte infatti mi sono aiutata con un piegaciglie perché altrimenti le mie ciglia sono davvero troppo 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 dritte non mi dispiace come effetto per ora non mi dispiace affatto devo provarlo vi farò appunto sapere con l'avanzare degli utilizzi perché come sapete i mascara più si utilizzano più rivelano tra virgolette il loro potenziale ora passando alle labbra vi mostro questo nuovo acquisto di Uda Beauty uno dei nuovi Power Bullet Matte Lipstick nuovi tra virgolette perché ho visto qualche giorno fa che fra un po' uscirà un'altra altri colori di questo di questo prodotto quindi questo non è tanto nuovo e tra l'altro delle nuove colorazioni ne ho già visti due che mi potrebbero piacere e non poco ultimamente sto in fissa con i nude quindi si principalmente sono questi colori che acquisto infatti questo se riesco ad aprirlo i packaging di Uda Beauty sono difficilissimi anche quelli dei rossetti liquidi è un'impresa ogni volta comunque questo è interview è bellissimo come pack perché richiama il colore all'interno sotto c'è l'etichetta è magnetico e questo appunto è il colore un nude marroncino come tutti i miei rossetti nude praticamente ma tralasciamo e andiamo avanti ho un po' di pellicine infatti forse era meglio fare uno scrub tolgo un po' il fondotinta dalle labbra e andiamo ad applicarlo e niente con i miei capelli da scappata di casa ho tolto il cerchietto e tralasciamo questo è il colore c'è c'è altro da dire è bellissimo come nude da tutti i giorni io mi sono innamorata cioè davvero sulla mano anzi ve lo mostro mi sembrava più chiaro specialmente in negozio con queste luci è perfetto perché è un nocciola un marrone con del rosa del pesca all'interno è bellissimo cioè è stupendo si è steso molto velocemente molto morbido ma non scivoloso è stato molto preciso l'applicatore non ho avuto difficoltà e tra l'altro come vi dicevo prima ho un po' di pellicine un po' le labbra secche però non me le ha messi in evidenza non ha fatto tutte le grinze dà un effetto bellissimo sulle labbra mi piace davvero davvero tanto io non so in video cosa riuscirete a percepire però è bello cioè è stupendo li ho appuntati perché il ciuffo mi stava facendo impazzire e so che a molte persone dà fastidio quando ci si tocca troppo i capelli quindi li ho fermati per farli stare lì buoni buoni e basta del prodotto di Elegore vi faccio vedere la differenza perché non ve l'ho mostrata mi sono dimenticata prima quindi questo è il fondotinta da solo vedete che è tanto tanto rosato mentre questo è con il prodotto di di Elegore risulta più caldo quasi aranciato proprio perché questo fondotinta tende a ossidare già da solo infatti prima mi sono dimenticata sono andata anche ad applicare un pizzico di NYX Pro Foundation Mixer nella colorazione white per schiarirlo perché altrimenti risulta appunto troppo troppo scuro per per me e niente questo è davvero tutto se mi sono dimenticata di dirvi qualcosa se avete altre domande fatemene pure sapere nei commenti io sapete che vi rispondo sempre e niente e niente io spero tanto che questo video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto un po' di compagnia se così è stato magari lasciatemi un mi piace se magari ne volete vedere altri io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao